Prima di venire in questo studio avevo la dentatura che non era ben allineata. Mi metteva particolarmente a disagio il fatto di avere in particolare un canino molto sporgente che mi impediva di comportarmi spontaneamente, soprattutto nel caso in cui avessi dovuto sorridere per qualche motivo, per cui per me era proprio un cruccio avere questa dentatura non allineata. Nel passato ho provato in età comunque adulta a seguire l'ipotesi di mettermi comunque un apparecchio tradizionale per allineare il sorriso. È stato brutto per me già dover affrontare la prima visita di studio del caso perché prevedeva di tenere in bocca una pasta per un periodo abbastanza lungo e questa cosa già mi mette in difficoltà perché per me non è facile affrontare il fatto di dover tenere in bocca del materiale o tenere la bocca aperta per troppo tempo, vado sempre un po' in difficoltà. In ogni caso mettere l'apparecchio in età adulta voleva dire comunque togliere dei denti sani e comunque poi dover andare in giro per un periodo abbastanza lungo con questo apparecchio magari non facilmente portabile appunto a 50 anni. Poi fortunatamente un giorno allo studio Penacchioni la dottoressa Chiara mi ha proposto questa nuova possibilità di indossare InVision. Ovviamente devo essere sincera mi sono principalmente fidata della dottoressa perché mi venivano dette soluzioni veramente molto semplici per il mio problema. Mi sembrava fino impossibile se potessero davvero avere dei risultati con un apparecchio che è trasparente facile da indossare non provoca veramente nessun dolore e adatto alla mia età. La cosa che comunque mi ha spinto ad andare avanti era che non era prevista l'estrazione di nessun dente e la possibilità di vedere prima su computer quale sarebbe stato poi il risultato finale. Già lo studio del caso è stato facile affrontarlo perché non prevede l'utilizzo di alcuna pasta ma attraverso uno scanner viene fatto praticamente una scansione della propria bocca con tutta la dentatura in 3d. Dopodiché dopo qualche tempo si possono vedere proprio a computer quali saranno i risultati che si otterranno e con quale percorso. Confermo che non ho mai avuto nessuna nessun dolore, nessuno. Cioè senza quasi neanche accorgermi già dai primi tempi il risultato si vede e fa piacere quindi dà la carica per continuare. Quindi veramente lo consiglio a tutti quelli che sono in questo momento che stanno valutando se ne lo saprò oppure no. Fatelo perché il risultato è garantito. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.